ultimamente c'è questa tendenza a non voler ascoltare gli esperti a voler avere un confronto con una persona che è come noi e quindi è libera dalle influenze di big pharma di delle grandi multinazionali e via dicendo allora è una cosa che facciamo anche noi giornalisti e qui c'è da spenderci una parola anche di me a colpa perché una delle cose che ti insegnano quando fai giornalismo è devi far sentire le due campane non è necessariamente giusto perché se io faccio sentire due campane una campana è che so un egittologo espertissimo su come sono state costruite la piramide l'altro è un salumiere che sarà un bravissimo salumiere ma non sa nulla di egittologia e mi afferma che le piramidi le hanno fatte gli alieni sto elevando il livello del salumiere e sto abbassando quello dell'egittologo è un po come dire non vado a un convegno di ginecologia o di ostetricia portando da una parte un ostetrico e dall'altra uno che dice che i bambini li porta la cicogna farei una scorrettezza non darei un'informazione alla pari non farei sentire due campane in sostanza ne farei sentire una fessa e una che suona correttamente per cui dobbiamo uscire un po' da questa abitudine e per farlo un po' dovremmo fare noi giornalisti questa scelta precisa di dire ci servono gli esperti veri e qui arriviamo alla seconda parte perché l'esperto vero non è sempre facile da trovare è facile nel campo del giornalismo avere fretta poco tempo quindi ma lei lei cosa fa lei è un medico cosa fa si occupa di piedi beh fa niente ma una domanda di virologia è uguale no tanto lei è medico non è non è esattamente così lo stesso vale per tutti i settori della scienza un'altra tecnica che consiglio moltissimo in generale a chiunque voglia approfondire un argomento e cercare di ridurlo a quelli che si chiamano principi primi cioè una cosa una un'affermazione può essere semplificata fino al punto di arrivare a basarla su dei fatti scientifici incontestabili cioè la velocità della luce è un dato di fatto la velocità del suono è un dato di fatto la accelerazione di gravità è un dato di fatto le reazioni chimiche sono un dato di fatto il comportamento del sistema immunitario è sostanzialmente un dato di fatto lo conosciamo molto bene non c'è una controversia scientifica non esiste una scienza alternativa della gravità quelli che ci hanno provato ci sono buttati dal palazzo non non sono sopravvissuti al convenio successivo quindi quello che dobbiamo fare è cercare di trovare questi principi primi se io per esempio citavo prima le torri gemelle come funziona l'acciaio come funzionano gli incendi ci sono alcuni concetti di base sui quali siamo tutti d'accordo sono d'accordo i vigili del fuoco se riusciamo a semplificare quella la questione che ci interessa fino ad arrivare a questi principi di base allora abbiamo una chiave di comprensione della realtà e a quel punto non è più necessario rivolgersi agli esperti con la fiducia cioè mi devo fidare dell'esperto perché mi dice metti che l'esperto menta metti che l'esperto sia di parte ma i fatti scientifici non sono né di destra né di sinistra non sono di parte quindi se posso arrivare a quelli e su quelli costruire il mio ragionamento ho delle ottime possibilità di azzeccare le mie conclusioni e questo credo che sia un insieme di tecniche che dovremmo tutti un po ripescare è giusto non essere non affidarsi ciecamente agli esperti perché l'esperto potrebbe avere la sua convenienza a dire le cose con un tono o un altro o potrebbe semplicemente dover esercitare la diplomazia perché in una situazione dove ci sono delle pressioni sociali o politiche quindi bisogna anche tenere presente che chi è esperto in un settore può a volte ammorbidire le proprie parole o cercare di trovare quelle giuste quelle che crede che siano giuste quando in realtà magari usa del gergo troppo tecnico o semplifica eccessivamente perché i tempi televisivi sono troppo stretti e quindi alla fine in realtà fa cattiva comunicazione però mettendo insieme tutti questi elementi si può secondo me fare una grandissima differenza grazie a tutti